Fat Talks Perché dico questo? Perché ovviamente insomma lo sapete ormai non ci sono sorprese, ecco previsto ovviamente questo era il titolo che abbiamo utilizzato in apertura, è stato confermato un nuovo rialzo dei tassi, possiamo mettere magari grazie Luigi la seconda strap perché è interessante capire anche quali sono i risvolti proprio sulla crisi economica, sull'eventuale rallentamento dell'economia e anche sul periodo delle trimestrali americane di grandi aziende che stanno presentando i propri conti. Dicevo appunto non ci sono state sorprese quindi è evidente che l'attenzione sarà rivolta credo per le mosse future. Allora io saluto Jean Ergas intanto, Jean buonasera, insomma resterai con noi per questa grande chiacchierata che Powell farà con i giornalisti e quindi indirettamente anche con noi. Allora 75 punti base, non ci sono state sorprese? Tu ti aspettavi questo? Come commenti la decisione di luglio della Fed? Ma io raccomando in modo molto normale, penso 75 per me era il floor, era proprio il livello più basso che si potessero fare, qui si parlava anche di 50, io non ci ho mai creduto. Anche di 100 si parlava. Io avevo più 100 che 50 effettivamente, mentre ho detto guarda tu giochi d'azzardo, sei un gambler come dicono qui, ho detto guarda io anche stamattina 10% lo vedevo perché la spinta è rialzista, perché la spinta è rialzista? Perché c'è un'animità nel consiglio, nel comitato, non c'è stato dissenso, la volta scorsa ci fu dissenso, questa volta siamo veramente arrivati quasi al PC e al centralismo democratico, al sistema sovietico, sono tutti d'accordo con il gran capo, questo è estremamente importante. Quello che ho visto io chiaramente, ho letto anche la release, il comunicato stampa, uno ha la sua brevità, quest'uomo francamente la centellina proprio le parole, ha due frasi molto colpito, dice softened, c'è stato un ammobilimento effettivamente di questa spesa alla produzione, ma non c'è aggettivo che qualifica softened, dice have markedly softened, have sharply softened, e questo è estremamente importante dal punto di vista dell'inglese che lui sta utilizzando, altrimenti softened, dunque lui non si dilunga in lunghe spiegazioni o precisazioni, e poi parla anche una cosa estremamente importante, dice we are strongly committed, non dice we are committed, non è che noi siamo impegnati a ridurre l'inflazione, noi siamo fortemente impegnati, il che mi fa pensare che questi andranno avanti per la loro strada, è una cosa estremamente importante, e in terzo punto che noi trovo interessante, il suo commento sul mercato del lavoro, c'è stato un po' questo ammorbidimento di questi parametri, però guardate che qui il lavoro c'è, il lavoro qui è ancora molto forte, dunque questa per loro è la misura dell'economia, l'economia americana per Powell non è il GDP, lui non gli importa assolutamente nulla, comunque l'americana di Powell è proprio la busta paga, quante buste paga ci sono oggi negli Stati Uniti, quante ce n'erano un anno fa, allora voglio dire che siamo veramente bravi, questa è l'economia del cash flow persona a persona e non l'economia dei conti dello Stato, è vero, allora io credo che voglio dire, non che io mi voglia comparare con Powell, ma sono riflessioni che possiamo fare tutti, io credo che abbia ragione, nel senso che ovviamente il mercato del lavoro dà un'indicazione molto importante, perché? Perché chiaramente ci fa vedere come le imprese stanno reagendo a quello che accade, quindi come e quanto assumono e continuano a assumere, però è altrettanto vero che, non so se tu convieni Jean, l'inflazione ha superato il 9%, nel senso che gli effetti dell'inflazione che stiamo vedendo oggi li vedremo più avanti, ti immagino, a meno che poi, ecco qui che si insinua diciamo così la Fed, a meno che le mosse che ha già messo in atto fino adesso, facciano ottenere dei risultati, però è più avanti che vedremo gli effetti di un'inflazione al 9%, giusto? Ma io che ho due punti, effettivamente tutto, molto giustamente ha commentato sull'impatto differito delle mosse monetarie, ossia lui sta agendo sulla domanda, non può agire sull'offerta, lui non può produrre altro petrolio, sia a casa sua nella vasca da bagno, sia a raffinarlo, questo non funziona, però chiaramente lui può agire solamente su un lato, la questione è con la questione di questo eccesso di domanda, che siamo stimolata, scaturisce da questo eccesso di spettamenti che furono concessi negli Stati Uniti, e questo accumulo di cash di risparmio durante la pandemia, è lì che lui sta agendo, più sono le catene di riformito che arrancano nel fornire questo materiale. Assolutamente. Questo è il discorso. Però il punto è questo, secondo me, che lui a questo punto è davanti a un dilemma politico, noi diciamo, tu dici molto giustamente il 9,1%, però io vado a fare la spesa al supermercato, ti assicuro lì è veramente la rianimazione, tu guardi gli scaffali e ti senti male, i biscotti 50 centesimi, adesso un dollaro, questi 50 dollari partono come nulla, allora io mi dico, io sono una persona single a questo punto della mia vita, e anche tra i benestanti, potrei modestamente dire, e dunque mi scoccia un po' per la cosa che finisce lì, ma io dico, il 9,1% è un aggregato statistico, un peso che è proprio calcolato su un sedicente paniere, ma per la persona che spende la gran parte del suo reddito, effettivamente sul mangiare, sugli alimentari, sono persone più povere, l'inflazione vera è il 25, il 30 o anche il 40 in certi casi, e questa è un'emergenza sociale, non è più un discorso di politica monetaria da Milton Friedman comparato a Keynes, no, questo è un discorso veramente semplice, perché quando tu arrivi alla cassa del supermercato, è poca consolazione, è qualche sapientone, ti dica, ma lei non si preoccupi, non ha più un saluto in tasca per tornare a piedi con quattro borse, perché ormai l'inflazione ha toccato il picco, sa quanto ti importa questi? Cosa è molto serio, molto serio. Assolutamente, sono d'accordo, non potevi dirlo in modo migliore, senti, c'è chi anche ci scrive, intanto manca un minuto, io chiedo alla regia di avvisarmi quando entra Powell e comincia a parlare, grazie Luigi, dicevo, io prima ho detto, in certo senso io sono d'accordo con Powell nel dire che il mercato del lavoro dà un'ottima indicazione, però senti cosa scrive questo nostro amico, il mercato del lavoro non tiene conto di chi non cerca più lavoro, cioè le statistiche che noi leggiamo effettivamente a volte lasciano un po' in sospeso determinate questioni che invece darebbero una fotografia ancora più immediata e quindi, il nostro amico credo che intenda dire, insomma, sì, è un indicatore affidabile fino a un certo punto. Ma io credo di sì, effettivamente, noi abbiamo sempre commentato, c'è il U3 che è quello ufficiale e c'è il U6 che è quello che comprende anche questa forza di lavoro, uno, uno che non ha speso moltissimo tempo. Il fatto è questo, effettivamente, che sta scendendo anche il U6. Allora, quello che io vedo, effettivamente, certo c'è sempre questo divario e gran parte di questo divario tra JOLS, posti disponibili e forza lavoro, non è dettata dal fatto a cui sono dei gran pigroni, ma semplicemente che non hanno le capacità per ricoprire queste mansioni. È un skills gap che è molto forte qui negli Stati Uniti. Per esempio, hanno più uniti, non so, 300 mila infermieri, se ne sono disponibili, sono anche 50 mila, quei posti rimangono aperti. Io credo che il mercato di lavoro è estremamente complesso oggi negli Stati Uniti, ci sono molte persone che si sono ritirate e che la Fed sta agendo, come abbiamo detto tempo fa, hanno spostato i paletti del GOL, hanno deciso che questo è il mercato di lavoro, questa è la forza di lavoro, e che chi non è la forza di lavoro attualmente, effettivamente lo fa quasi per il proprio punto. Ma certo ci sono quelli che sono esclusi, il vero problema sarà non tanto chi non lavora, ma il salario reale di quelli che lavorano. Ok, intanto è arrivato Powell, possiamo inquadrare, come sempre c'è l'attesa mentre si sistema e comincia a parlare? Eccolo qui, Jean, ti lascio il microfono. Grazie. Un po' di gioco. Allora, questo è molto importante, la prima frase effettivamente è un forte impegno in maniera a celere, a ridurre l'inflazione. Ossia, ristorare, ristorazione. Ossia, questo paese si è dimostrato resistenza, resistente. Allora, bisogna riportare il 2% per ripristinare un forte e sano mercato del lavoro. La decisione attuale è chiara, il mercato del lavoro è molto forte, tight, l'inflazione è troppata. Oggi, visti questi dati, hanno aumentato le 75 di base, e che prevede che saranno appropriati ulteriori aumenti. Allora, significa che vuol dire in modo considerevole ridurre il portfolio obbligazionario. Per me stanno accelerando. Allora, gli indicatori, chiaramente, è produzione e consumo, un po' morbiditi. E di quello che dicevamo prima, effettivamente, è che il vero reddito sta sceltenendo. L'attività nel settore immobiliare, un po' più debole. Allora, nel secondo trimestre, anche il rischio che è ridotto, e qui ha capitato di investimento. Nonostante ciò, il mercato del lavoro rimane estremamente forte, con la disoccupazione a un livello di un basso negli ultimi 50 anni, molti posti disponibili. 375.000 posti in media di aumento. Ancora robusto. I miglioramenti nel settore lavoro, il mercato lavoro, i fusi, anche per i meno ambienti. La domanda di lavoro è molto forte. La sua offerta del lavoro rimane sommessa. Ossia che l'aggregata, domanda in aggregato, rimane forte. Importantissimo. Questi non vedono la recessione. L'inflazione rimane sopra il 2%. Core PCI 4,7%. Ossia, sopra l'attesa a giugno, il CPI è il Core CPI a 5,9%. Nonostante il rallentamento recente all'economia di attività, la domanda rimane forte e ci sono queste pressioni su prezzi diffusi. Allora, questa guerra in Ucraina, effettivamente, nonostante i recenti cali, ossia ulteriori spinte inflative. Allora, loro vogliono provare l'impiego stabile e stabilire i prezzi. Allora, loro sono pronti a sapere del fatto che l'inflazione è alta, ossia impone anche dei sacrifici, in particolare anche meno avventi. Sono molto attenti ai rischi che pone l'inflazione per entrambi i mandati che si ha il lavoro o la stabilità dei prezzi. Oggi 75 punti di PIS. Oggi il target è 2,25, 2,5. E lo dice per la seconda volta che stanno in maniera significativa riducendo il frattempo di azionario. Questo non l'ha fatto qui, ma qui sta calcando la mano su questo punto. Di nuovo, compelling, un'evidenza proprio schiacciante che l'inflazione sta resta riducendo. Compelling, fortissimo. Allora, loro diranno che metteranno altrimenti i prezzi, però dipenderà dai dati. Il secondo 75 punti base mentre un altro grosso aumento potrebbe essere giustificato, però dipenderà dai dati. tenteranno di comunicare l'opensione in maniera più cara possibile. Allora, mentre effettivamente questa politica espansiva monetaria venne ridotta, potrebbe essere utile, giustificato, effettivamente, riesaminare l'opensione e la loro politica. Ma vogliono assolutamente portare un'inflazione al 2%. Molto importante. Inflazione, expectations, strategies. Allora, formulare un'economia politica monetaria, politica monetaria, in questi tempi, insolita, resume, riconoscere, anche, sconsessi e sorprese. allora vorranno anche cercare di evitare di aggiungere incertezza a un ambiente estremamente incerto. E di nuovo ritorna sulla fase 2%, ridurre l'inforzamento al 2%. questo potrebbe comportare potrebbe comportare un importantissimo. Lui è pronto ad accettare effettivamente un aumento economico sotto il trend e un aumento della circolpazione. Ma questo è necessario. Importantissimo. Tutto ciò che facciamo per ottenere la loro missione politica. faranno di tutto per ottemperare al loro mandato il mercato del lavoro e anche la stabilità dei prezzi. Allora, perché non avete aumentato l'1%? Allora, come mai dopo giugno, maggio e giugno forte inflazione nel 1%? Abbiamo giudicato che 75 punti era giustificato. non esiterebbero a fare un aumento più forte se il comitato lo giudicasse opportuno. Oggi questo non fu il caso. Però non lo scudo. Abbiamo detto anche in giugno che allora ha detto anche giugno e allora effettivamente loro loro hanno un tasso forte aggressivo a giugno e anche oggi perché continuano ad essere dispiaciuti dell'inflazione. Dunque, 1% è in discussione. come soppreserebbe come soppreserebbero un declino dell'inflazione che scaturisce da un declino dei prezzi delle commodities e qualsiasi attività che si indebolisce e come potrebbe perciò cambiare l'orientamento della Federal Reserve. Allora, come dicevo a dire ci siamo mossi in maniera accelerata per arrivare al nostro obiettivo per arrivare diciamo al tasso neutro. Allora, come andiamo avanti? Allora, c'è sempre una questione della domanda che è eccessiva nei confronti dell'offerta e questo è il nostro punto principale. Allora, noi ci aspettiamo anche aumenti ulteriori se non giustificati. Allora, cosa guardiamo? Guardiamo i dati che arrivano le corte economiche vediamo il rallentamento che noi ci auspichiamo e c'è qualche evidenza che lo stiamo avvenendo per andare al mercato al lavoro migliore equilibrio al mercato al lavoro tra l'offerta e la domanda però guardiamo molto attentamente all'inflazione e noi guardiamo anche il headline però chiaramente guardiamo anche il core entrambi e allora cosa ci dico dell'outlook vediamo queste pressioni che inflattive che scendono allora la nostra politica è sufficientemente restrittiva per portare l'inflazione al 2% questi aumenti sono stati grossi e sono arrivati rapidamente e che ancora il pieno impatto non è ancora stato sentito dall'economia e probabilmente bisogna avere ancora degli omiti allora dobbiamo come minimo dice il comitato portare la nostra politica a un livello minimo moderatamente restritto la media a fine anno per i 23-365 secondo me loro aumentano ancora e loro aggiorneranno nel mese di settembre allora nel mese di settembre potrebbero ancora fare un aumento inusualmente grosso ma queste sono le decisioni che hanno fatto già che hanno già preso e loro stanno andando praticamente mese per mese meeting per meeting come la giornata arrivare al neutral ma secondo me andranno oltre il neutral e loro dicono lei dice che effettivamente che la vostra politica funziona tramite l'imprimensionare le attese e che deve essere moderatamente restrittivi allora il mercato dei futures dice che è in linea con le vostre attese ma che poi abbassere i tassi l'anno prossimo allora queste sono sufficienti queste sono estremamente difficile anche in tempi normali definire ciò che farà l'economia tra sei mesi e cosa sarà la propria altra economia con la politica monetaria allora viene a prendere tutto con un certo scetticismo qualsiasi forecast su ciò che saranno i tassi l'anno prossimo l'unico punto dato allora in giugno l'attesa effettivamente è sui all'anno prossimo di giugno di giugno è questo il mese di giugno in 2023 ora alla fine di quest'anno un livello moderatamente restrittivo conforme previsioni di giugno del comitato Gianna ti interrompo un istante scusami poi ovviamente se ritieni di sentire qualcosa di particolarmente importante però credo che ci siano già molte cose al momento quindi un breve commento poi ti faccio ritornare su Powell beh allora intanto l'impegno a ridurre l'inflazione ma questo l'abbiamo letto anche nel comunicato è stato molto incisivo il paese a livello economico ha resistito no recessione poi va bene gli hanno chiesto subito perché non è stato aumentato dell'1% il rialzo dei tassi e poi la cosa importante è che ha dato dei riferimenti mi pare di aver capito ben precisi sulle prossime mosse giusto quindi ha parlato di un prossimo rialzo che potrebbe essere ancora importante chiaramente poi anche in base a quello che succederà quindi ha già dato delle indicazioni cosa che nel comunicato non abbiamo visto quindi evidentemente aspettava di dirlo come si sta comportando Paolo secondo te fino a questo momento poi torniamo ad ascoltare quello che chiedono sì sì ma secondo me Paolo si sta ascoltando in maniera molto schietta per un uomo effettivamente che mette le zampe in avanti ossia parliamoci chiaro lui c'è tutto il comitato con cui deve fare i conti ma questo è un Paolo deciso questo è un Paolo che non si preoccupa del mercato del lavoro dal punto di vista di disoccupazione è un Paolo che è pronto ad accettare anche un rallentamento della crescita economica però non vede una recessione e non ha detto io accetto la recessione ed è un Paolo che secondo me è molto chiaramente falco molto chiaro lui ritorna sempre su questo punto dell'inflazione questo è estremamente importante sì beh poi ha parlato esatto di un mercato del lavoro che insomma che vuole riportare ai vecchi lustri diciamo così effettivamente stavo guardando anch'io intanto l'andamento dei vari indicatori di mercato l'euro sta continuando a recuperare in questa fase fin da quando il comunicato è stato pubblicato e un amico chiede come mai l'euro sta recuperando con il rialzo dei tassi da parte della Fed e poi c'è chi anche continua a sostenere che comunque le banche centrali abbiano agito in modo sbagliato per troppo tempo cioè quello di mettere liquidità proprio sul mercato che ha portato poi effettivamente a un periodo molto prolungato di tassi pari allo zero però con un mercato che evidentemente rispondeva a queste sollecitazioni delle banche centrali che a un certo punto invece hanno causato quello che hanno causato non solo loro ovviamente poi c'è stata la guerra eccetera però diciamo che ha contribuito il timing non propriamente perfetto non so se vuoi rispondere a queste due poi ci sono tanti altri messaggi magari ne leggiamo ancora però dopo torniamo un istante da Powell ma una breve risposta su questo Gian allora euro secondo me perché non hanno fatto l'1% effettivamente c'era sempre queste ipotesi potessero fare l'impresente andavano a 10 al 25 ossia e loro dicono effettivamente a questo punto lui non ha detto noi faremo 75 forse faremo 75 e secondo questo è il punto dell'euro ossia poteva essere peggio però c'è una perché decisa qui e poi secondo me questa è la questione della liquidità sì loro si sono mosse tardi le banche centrali però avevano poca scelta secondo me perché c'era la scelta tra il male e il peggio il male era poter scattolire un forte processo di inflazione il peggio era completamente smorzare qualsiasi intento di ripresa post pandemico per cui chiaramente stanno correndo ai ripari però io vedo una fede qui molto decisa ok va bene torniamo da Powell poi leggiamo altri messaggi vediamo un po' cosa emerge nuovamente prego Gian ossia forte crescita nell'anno riapertura 2020 abbiamo stretto la politica monetaria e vedrete chiaramente un rallentamento ulteriore questa è la questione recessione e questo dare tempo anche effettivamente domanda che scende per dare tempo alla catena di frumenti per recuperare queste sono cose che noi ci aspettiamo e anche necessarie per far scendere l'inflazione per riportare in ultimately eventualmente l'infinizione al 2% però non dice recessione o recessione allora il focus è l'inflazione questo non scherza ok la stabilità dei prezzi diciamo è il punto fondamentale supporto dell'economia e non possiamo avere un mercato del lavoro stabile e forte senza la stabilità dei prezzi e vogliamo anche eliminare queste differenze tra i gruppi razziali vogliamo ritornare a quella situazione pre-pandemica dove effettivamente ci può una riduzione di questa disuguaglianza allora questo è il mandato sociale allora chiaramente non lo vedono come il trade-off con il mandato lavoro qui c'è il rischio di fare troppo poco o sono più grandi del rischio di fare troppo no importantissimo non stiamo tentando di fare un programma di recensione e ne pensiamo che sia necessario loro vogliono riportare l'infrazione al TARG senza indebolire il mercato del lavoro quello che tentiamo di fare allora questo piccolo questa via è molto stretta narrow clearly narrow questo è molto importante clearly l'aggettivo chiaramente un pentiero più stretto ossia ristaurare chiaramente un'ottimità di stabilità dei prezzi è una cosa essenziale allora senza questo ritorno alla stabilità dei prezzi non potrete nel medio lungo termine avere una crescita continuata loro dicono osserviamo temperiamo il dual mandato e vediamo allineati se potete sbagliare volete sbagliare aumentando troppo aumentando troppo poco noi vediamo ci sono rischio due volti due lati c'è il rischio di fare troppo e mettere un peso grosso più che necessario sull'economia ma fare troppo poco e lasciare l'economia con questa inflazione incurata allora aumenta semplicemente il prezzo che noi dobbiamo pagare per ridurre e riscopere questo problema ulteriormente sono base sostenuta e noi non crediamo che questo è successo diventa molto più difficile il dolore sarà molto più forte dunque questo è importante lui non ritiene che siano al tipping point dopo questa inflazione queste spese inflattive abbiano toccato l'apice ma lei crede che le Siete Uniti siano attualmente in recessione quindi Gian scusami questo è vero è molto importante poi riprendiamo anche altri punti ma quindi non è ancora arrivato al picco giusto? lui dice effettivamente che non siamo ancora arrivati al punto dove queste attese inflattive da parte della popolazione siano fortemente accorate non siamo ancora lì però secondo me effettivamente mi ero fatto che ne parli molto serio ok e poi sta insistendo molto sul riportare al target del 2% ma questo insomma ecco tu hai detto ho sorriso quando hai detto questo è uno scherza insomma insiste 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 su questo concetto perché effettivamente sta emergendo proprio mi pare anche una sorta di preoccupazione per questa inflazione che non ha nemmeno raggiunto il picco che però continua a causare problematiche poi lo raccontavi anche tu prima quando si va a fare la spesa quindi lo sta diciamo che ti ha letto nel pensiero Jerome Powell dai molto gentile molto gentile effettivamente c'è una vera inflazione molto più del 9,1% è certo è certo è quello il discorso esattamente va bene dopo l'inflazione è mossa visto che stiamo parlando di inflazione un amico scrive è mossa da fattori diversi petrolio supply chain stampa di denaro la tempesta perfetta beh certo in questo momento è molto utilizzata questa espressione la tempesta perfetta perché non è solo una sola causa che ha portato a questo esattamente e anche in tempi non sospetti hanno cominciato a fare capolino diciamo così queste cause ok torniamo se sei d'accordo da Powell ok benissimo allora queste sono le leggi e i regolamenti su conflitto di interessi sull'attività finanziaria della Fed questi sono i regolamenti più duri in qualsivoglia istruzione finanziaria che io sappia allora stanno reggendo questa costruendo questa infrastruttura affinché diciamo l'attuazione sarà tight severa abbiamo creato delle regole molto robuste e molto forti questo sistema diciamo chiaramente è appena decollato sono figli di quello che abbiamo fatto vorrei fare una domanda su 75 ossia affronta 50 o 25 e quattro ritenete in considerazione di quanto aumentare i tassi quando lei dice questo è un porto molto forte lei intende 100 punti base e c'è qualche dato in economia che potrebbe indurvi a rallentare il passo dagli aumenti questa è la prossima riunione guarderemo tutto l'attività del mercato del lavoro l'inflazione e un dato punto quando questo processo si è continuato a evolversi prenderemo la decisione di rallentare non ci siamo ancora arrivati e a settembre guarderemo i dati e l'evoluzione dell'auto in maniera molto attenta prenderemo lì in quel momento la decisione e non può dare guidance specifica e lui ha detto importantissimo potremmo fare ho menzionato un altro aumento inusualmente forte importantissimo a questa frase allora noi pensiamo che quella distensione finale capolinea effettivamente di questo tram che si chiama aumento dei tassi è ancora in linea con le attese che sono rilasciate pubblicate nel primo di giugno poi vedremo anche l'anno prossimo allora a questo punto c'è un divario crescente tra il PCI Federal Reserve e l'inflazione è il parametro più seguito dal pubblico che si piace di quanto deve scendere questo parametro affinché voi decidiate di ridurre l'accelerazione o il ritmo di aumento dei tassi allora noi abbiamo da tempo utilizzato il PCI perché effettivamente riteniamo che sia meglio rappresentare più atta rappresentare questa misura la vera inflazione il CPI ha un weighting molto più forte sull'alimentare i veicoli immobiliare ma nel tempo tendono a convergere però ricordatevi noi guardiamo i PCI perché riteniamo che sia un indicatore migliore ossia per moltissimo tempo il gap tra le due misure è 25 punti base dunque siamo adesso in una situazione inusuale e loro prevede che c'è una convergenza verso la media e stanno guardando entrambi i dati e secondo noi quella che è sempre stata la migliore misura è stata il PCI e per questo molti anni fa ci siamo spostati verso il PCI vorrei tessere insieme un paio di tempi la destinazione rimane invariata per salio per salio fino e adesso ma voi dove siete nel vostro viaggio adesso abbiamo visto che il capital investment l'investimento capitale si è rallentato allora lei crede effettivamente che la domanda sia ancora eccessivamente troppo più forte della domanda che voi crediate per fare di più questo può essere l'effetto del dollaro forte nel 2023 e potrebbe indebolire l'economia come fate a sapere dove siete parliamo della domanda allora noi vediamo a questo punto chiaramente un rallentamento alla domanda dal punto di vista del consumo e dell'investimento via capitale business la gente ha guardato i numeri del primo trimestre e ha detto qui non ha nessun senso però a questo punto effettivamente il secondo trimestre non è come il primo forse rappresenta in maniera più veritiera l'economia però vediamo questo mercato lavoro che è forte esatto e questo è un fatto usuale che per molti anni effettivamente il primo trimestre il GDP era negativo noi crediamo che la domanda si vada moderando e c'è ancora molti soldi sui bilanci dei singoli e il mercato del lavoro è molto forte e gli estreti sono alti i stipendi sono alti noi crediamo che forse c'è un andamento abbastanza buono nella seconda età dell'anno però bisogna guardare questo rallentamento nel secondo trimestre allora effettivamente forse sarà sotto il potenziale per poter dare una chance tramite causa della politica monetaria per dare all'inflazione di scendere allora quando pensiate di vedere un rallentamento significativo nel mercato del lavoro e quali peggioramenti diciamo o declino accetterete allora abbiamo già visto un declino dell'anno scorso una creazione molto forte di posto di lavoro a una creazione di posto di lavoro più moderata vediamo anche un aumento dei sussidi di situazione prima richiesta qui vediamo le media dei salari orari sempre che stiamo moderando allora qui a questo punto dal punto di vista dell'aneddoto proprio queste preoccupazioni da parte dell'impresa non riescono a trovare lavoratori ci sembrano un po' ammanzite queste paure allora vediamo lentamente un riequilibrio un ripristino di questo equilibrio come dire come dire che il sentiment è un po' migliorato quindi ma come dire effettivamente che c'è una moderazione diciamo in queste paure da parte dei datori di lavoro non poter trovare i dipendenti di cui hanno bisogno però secondo Paolo ci dice che questo aneddoti ossia per esempio il Rubage famoso che pubblica la Fed ci stiamo avviando verso un periodo di migliore equilibrio ok peraltro stavo proprio pensando insomma da quello che sta emergendo che appunto l'attesa sul rialzo dei tassi di 75 punti base è stata confermata però poi quasi tutti erano propensi nel dire che Paolo avrebbe in qualche modo lasciato in tendere un rallentamento poi nella nella stretta monetaria invece mi pare che stia dicendo esattamente il contrario quantomeno per la prossima riunione non intendo dire sul sul più non si impegna assolutamente questo uomo esatto non si impegna dice io non so dobbiamo vedere forse sarà giustificato un altro aumento che ne so io vate la pesca dice lui diciamo che sta considerando un po' tutte le possibilità proprio per il fatto che bisognerà vedere come andrà leggo un paio di messaggi poi ti lascio ancora il microfono appunto ancora un po' di scetticismo non vedo niente di chiaro scrive un tuo omonimo peraltro Gianna le banche centrali non sono i controllori dell'economia e quindi il fatto anche anche Gianna scrive il fatto di aver buttato miliardi di dollari è stato un errore ma grande poi sempre Gianna una domanda interessante che pone tutti questi aumenti dei tassi quali conseguenze porteranno all'economia sudamericana esempio Argentina che ha un'inflazione del 6% mensile cosa succede alle nazioni insomma che notoriamente hanno anche un tasso di inflazione importante Gianna ma io credo questo sia il punto principale effettivamente uno questi paesi non è tanto una questione di inflazione importata o diciamo ancramento dei tassi in sé è il fatto che si stanno rallentando come paesi dal punto di vista economico che i paesi emergenti stanno affrontando molteplici sfide affrontano la sfida del dollaro forte in confronto diciamo anche al loro indipendente che è alto che in dollari però non hanno il cash flow per pagarlo non possono rifinanziarsi stiamo vedendo una raffica di downgrade dei paesi emergenti dunque il vero problema dei paesi emergenti è che si trovano a questo punto su un binario morto questo è estremamente importante dal punto di vista dell'inflazione è chiaro che se il dollaro permane forte e dovesse salire ancora gran parte della loro importazione aumentano di prezzo dunque a quel punto loro devono andare a fare ancora una stretta monetaria non per controllare l'inflazione interna che permane molto alta è estremamente semplice questo discorso ricordiamoci loro anche importano spesso petrolio ed errate alimentari questa è la situazione per loro è messa male assoluto ecco guarda l'euro dollaro è sceso in questo momento comunque va toccato l'1,02 di cambio con l'euro che sta recuperando terreno nei confronti del dollaro quindi insomma visto che anche prima ne abbiamo parlato poco fa era proprio a 1,02 tondi tondi allora Gian torniamo da da Powell facciamo sempre un po' questo entra e esci doveroso prego benissimo allora sarà difficile effettivamente ossia arrivare a evitare questa recessione ma c'è un sentiero allora chiaramente vogliamo una domanda ossia che scende però che non provochi un forte aumento alla disoccupazione ma questo non lo sappiamo sia chiunque pensa che effettivamente questo sarà il caso forte a disoccupazione sta sottovalutando a livello di incertezza ossia molto difficile fare pressione sul mercato lavoro la mente su occupazione sta dicendo allora riduzione del portofolio obbligazionario in ambienti diverso da quello 2013 cosa stai imparando da come stanno reagendo i mercati allora siamo già ancora a livello di riserve per i mercati ci siete già allora lui ha detto giustamente ho detto altre volte che loro stanno aumentando naturalmente questa riduzione e a settembre saranno piena forza allora il nostro piano di riduzione a posto lavoro operazionario è in senso lato ossia sulla giusta via però a questo punto lo metteranno ci sarà molto tempo sia per ripristinare per riportare il portofolio nazionario ai livelli consueti allora pensano due anni e mezzo affinché si riducono però che ci sia anche ancora il riservo sufficiente per il mercato questo è un ritmo sensato allora questa stretta monetaria sembra rallentarsi con il decennale che scende siamo incredibili che siamo già a giusto livello in particolare mentre continuano a aumentare i tassi allora lui dice che anche previsioni inflattive stanno riducendo e questo è positivo allora quello mi piace è vedere queste attese inflattive che riducono loro fanno la loro politica i mercati finanziari regiscono e poi l'economia regisce in base ai mercati a loro molto importante loro porteranno la loro politica a un punto loro hanno comprende sono fiduciosi fiduciosi confident non ha usato prima questa parola e il tassi di inflazione si sta dirigendo verso il loro target e ultimately eventualmente dunque questo è un processo abbastanza esteso non finisce domani ecco eh no certo diciamo che questo ha fatto bene a rimarcarlo ma è ancora più importante allora c'è una domanda per te te la leggo Augusto che salutiamo per Jean si potrà comprare equity dopo le elezioni di midterm e poi fanno riferimento anche a quanto si diceva prima sull'Argentina per questo forse l'Argentina ha chiesto di entrare nei BRICS cioè quei paesi insomma che condividono la situazione economica in via di sviluppo e che possono contare su risorse naturali che possono essere strategiche questo è un commento ecco equity l'equity come la vedi insomma anche in vista delle elezioni politiche delle midterm ma io penso che c'è un po' di certezza sull'equity e a questo punto non gioca tanto l'infatti delle elezioni di midterm di novembre ma quello che farà questo signore lo faranno questo signore e i suoi amici del comitato questa è la variabile indipendente io credo che effettivamente ci potrebbero ancora essere delle delusioni questo è un punto di vista mia sui risultati io prevedo molta volatilità stiamo cominciando a vedere a questo punto emergere anche col cambio un paolo un po' più falco che picchia duro e dunque io credo che probabilmente si potrà comprare forse dopo il midterm perché il problema del midterm è se saranno riconfermati i democratici che sono visti come diciamo nemici dell'economia imperista però è molto importante ricordarsi che è lui la persona principale questo è l'uomo più potente del mondo dal punto di vista economico è lui il vero Presidente del Stato Unito le elezioni si celebrano con ogni meeting della Federal Open Market Committee questo è molto importante noi abbiamo otto lezioni all'anno in questo paese questo signore con i suoi amici questo è una citazione da tenere ben presente quello che ha detto Gian scherzi a parte insomma però indubbiamente la realtà c'è allora sentiamo un po' quali altri curiosi mi sembra adesso andiamo ancora a sentire cosa chiedono mi sembra che però le domande quelle più frequenti e quelle più incisive siano state fatte insomma adesso si sta un po' cercando di andare a scovare qualcosa relativamente poi a quelle che saranno le prossime mostre insomma però credo che le questioni più importanti siano emerse ma torniamo a sentire ancora se continuate a scriverci io leggo anche i vostri messaggi che sono sempre molto utili prego ci sono stati molti tapered transrooms quasi stai riferendo chiaramente alla revisione un prototipo logazionale i mercati ignorano il prototipo logazionale per anni e poi improvvisamente registrono loro a questo punto hanno capito di farlo gradualmente loro stanno tentando di evitare una situazione di forte instabilità e quando è successo nel 2018 ci sono delle vere conseguenze per l'economia il vero punto nel 2020 e nel 2021 tentare di capire cosa stava succedendo con la repertura dell'economia e noi pensavamo effettivamente che la gente si sarebbe rimessa a lavorare che tutti si sarebbero fatti vaccinare le scuole si aprirebbero e che questa prestazione della forza lavoro aumenterebbe cosa che non è stata ossia che il rifornimento sarebbe risolte queste tensioni allora qui a questo punto abbiamo capito quanto possono essere complicati questi problemi dal punto di vista del supply side per esempio catene di riponimento di riponimento allora noi siamo mossi molto conoscimenti da quando l'inflazione ha cambiato rotta il mese ottobre allora già nel mese ottobre cominciavamo a vedere una serie di dati che portendevano diciamo così un tasso di inflazione più alto per un tempo più esteso recessione se noi abbiamo domani un numero negativo sul GDP qual è la sua definizione recessione questa è veramente importante ossia la FED non si esprime allora abbiamo il nostro dubbio mandato per ottenere il nostro obiettivo noi domani guardiamo il data e i dati allora questo è molto importante è un declino diffuso attraverso diversi settori e industrie ci sono molti test è molto importante negli Stati Uniti questo è definito National Borough Economic Research però il mercato del lavoro sta mandando un segnale talmente forte che ci costringe e questo sono d'accordo anch'io a porre in dubbio quello ci può dire il GDP e se ci vuole un indebolimento del mercato lavoro necessario di discussione con il committee alcuni dicono che il tasso non inflazionistico non infattivo dell'occupazione dovrebbe essere 5,6 che il tasso naturalizzazione allora sarà più alto di quello di dove fosse prima ora c'è anche questo mismatching come dicevamo prima prima della conferenza di Powell che il natural rate of employment che questo tasso naturale di occupazione non inflazionistico che potrebbe essere più alto allora si è spostato in maniera materiale ma mentre i posti di lavoro vengono a creare la gente ritorna al lavoro e noi potremo vedere anche questa rinforzionistica scende questo anche ridurrebbe la pressione sull'inflazione perché l'inflazione è causata da questo gap tra quello che è effettivamente il mercato lavoro a forza lavoro disponibile e i posti disponibili se non potrete osservarlo non è osservabile noi questo non lo controlliamo allora dice se la pandemia ha un casato che questo tasso di occupazione non inflazionistico si è salito quando poi si ritirano i lavori dovrebbe scendere la maggior parte della pressione pensa che o siamo in recessione o ci stiamo dirigendo questa recessione mentre l'amministrazione Biden dice che non siamo in recessione e non ci stiamo dirigendo per recessione e lo stiamo sentendo dire la stessa gente che ci dice che l'inflazione è la transitoria allora poi direbbe al pubblico per rassicurarli rassicurare il pubblico che prendereste per un eventuale peggioramento dell'economia e loro dice che non è probabile poco probabile l'economia americana sia un recessione andando avanti abbiamo visto la riduzione del consumo abbiamo visto un leggerissimo accenno a un mercato lavoro meno compresso il nostro obiettivo è di ridurre l'inflazione un soft landing senza recessione allora sempre i parametri per lavoro senza aumentare in maniera significativa l'esoccupazione lui ha sempre detto che sarà una sfida questo non garantisce nulla questa domanda su un aumento dei tassi minacciare stabilità globale lui dice per esempio per esempio di 1994 o di 1980 dice che ha provato a fare i tassi e visto la rapidità proprio quando siamo mossi che i mercati si siano comportati in una maniera ordinata come se la stabilità finanziaria e che i valori degli assets degli attivi sono scesi il che vuol dire che riduce la vulnerabilità del sistema dunque quando sono atti c'è il rischio di un crack molto importante qui non c'è nulla di sistemico e il sistema bancario ben capitalizzato e che i singoli sono ben forniti il cash che hanno il bilancio personale è pieno di cash così è stata la finanziaria c'è una decente ci sono molti punti macroeconomici però che non surgono a livello della stabilità finanziaria questo non vuol dire che le persone che sono di minor reddito non soffrano e vanno a comprare gli alimentari esatto vedendo anche diciamo prima che la busta paga non è sufficiente per pagare gli alimentari per questo siamo veramente impegnati a rurre l'infezione ecco esatto ancora emerge questa ferrea volontà ma è possibile secondo te l'ho parlato di soft landing cioè perché poi le preoccupazioni sono lì i giornalisti stanno chiedendo ma riusciremo a evitare tranquilli peraltro ha tirato anche una frecciatina sono gli stessi che dicevano che l'inflazione era temporanea anche Powell lo diceva e dice però l'ha messa in senso positivo come può rassicurare chi ci ascolta ecco è possibile secondo te già un soft landing come si definisce effettivamente secondo questo signore se domattina c'è un GDP che è negativo lui dirà questa non è una recessione perché se l'NBNR che deve decidere cosa è una recessione dunque io questo è un dato nullo effettivamente vedo questo grosso ritorno in massa da questo esodo che c'è stato e credo che effettivamente si probabilmente sarà un rentamento dell'economia io non vedo una grossa crisi perché non vedo chiaramente un rischio sistemico ossia il vero rischio nel 2008 non è stato sistemico nel 2020 ci fu la pandemia un fattore esterno tipo terremoto io non vedo a questo punto sicuramente dunque io credo che sono le buone chance e io gli do un 45 su 55 45 che ci riesca 55 no però anche se non si riuscire anche se non si riuscire secondo me non trarà una grande crisi ok un altro amico scrive che secondo lui ci saranno novità inaspettate per il PIL ricordiamo insomma che è l'altro dato clou della settimana allora tra poco sicuramente la conferenza stampa andrà a conclusione andiamo a sentire le ultime battute e poi Gian facciamo un riepilogo finale prima di salutarci ah no ecco è appena finita perfetto l'ho chiamato allora abbiamo seguito comunque fino all'ultimo insomma rispettano sempre il timing allora beh allora a questo punto io ho preso un sacco di appunti ma è quello che abbiamo detto insomma ha insistito molto sulla ferrea volontà della Fed di controllare l'inflazione per questo ho detto noi oggi mettiamo appunto cioè rialziamo i tassi di 75 punti base poi monitoreremo la situazione quindi è stato possibilista sicuramente non ha dato un riferimento preciso sulla prossima riunione questo non avrebbe potuto farlo peraltro insomma sarà settembre quindi ci rivedremo tra un po' siamo a fine luglio quindi insomma terminata l'estate ci vedremo però ha lasciato intendere che proprio per andare in quella direzione per riportare più velocemente possibile l'inflazione al target del 2% le mosse anche aggressive verranno messi a punto anche insomma quindi questo e mi pare che sia poi il concetto fondamentale cioè mi pare Gian scusate se uso ancora mi pare ma sono tutte riflessioni a caldo ovviamente che si sia concentrato meno sul tema lavoro macroeconomia cioè ha risposto alle domande però lui continuava a andare a parare lì sei d'accordo all'inflazione sì sì lui sta parlando dell'inflazione lui è molto soddisfatto non pensa assolutamente che l'esoccupazione sia un problema negli Stati Uniti appunto lui dice io non vedo perché devo stare a guardare i posti di lavoro o crearne altri non gli importa assolutamente nulla ma siamo già troppi posti disponibili che sono ancora vacanti lui dice anche che probabilmente anche se deve essere poi diciamo a un certo punto esserci diciamo un aumento di disoccupazione questo rimarrà dentro i parametri normali ricordiamoci che qui il tasso naturale di disoccupazione di pieno impiego negli Stati Uniti era il 5% di disoccupazione perché c'era anche la disoccupazione strutturale e c'era anche la disoccupazione di quelli che erano a ricerca di un altro lavoro o che erano studenti che andavano a confiare le file dei disoccupati questo è un mercato di lavoro molto più fluido di quello che c'è in Europa così bisogna ricordarsi effettivamente può prima avere il 5% di disoccupazione e trovi un lavoro qual si voglia lavoro un lavoro che ti soddisfa che ti guida contenti ossia nel giro di un parto d'ora o 20 minuti o mezz'ora questo non è il mercato del lavoro europeo dove la situazione è molto più sticky quello che mi ha colpito di lui chiaramente molti hanno frainteso molti hanno inteso hanno capito che lui sarebbe disposto a un certo punto all'alentare effettivamente quest'aumento dei tassi per questo che vediamo l'S&P che sale io non so quando questo giorno fatidico verrà per il momento quest'uomo secondo me mi sembra ben intenzionato eh sì 285 l'S&P certo adesso vediamo anche ma insomma fatto molto esatto dice che forse lui ci ripenserà però vediamo un attimo come va a finire questa storia io credo che loro terranno abbastanza duro l'S&P può anche salire perché si dice questi si vanno con mano pesante l'infezione scende e allora stronchiamo subito questo mettiamo il drago e buono notte peraltro gli indici esatto gli indici sono brillantissimi gli indici americani quindi insomma hanno gli indici americani sono molto forti perché dicono proprio questo dicono più carica la mano adesso e meno caricherà la mano meno di mano pesante dopo esatto forse l'inflazione scende adesso vedremo il test sarà se veramente questa inflazione è ancorata o no o se c'è veramente questo declino nelle tensioni del mercato del lavoro questo è il discorso io credo che effettivamente è proprio lì il discorso fra le inflazioni e le attese infrative da parte del lavoro ecco poi sto guardando ecco l'euro dollaro ha il cambio a 1,0204 l'abbiamo visto insomma è risalito sopra la soglia dell'1,02 0,86% l'euro che sta appunto guadagnando un po' di terreno andiamo a vedere anche i treasury il decennale è a 2,76% insomma è stabile rispetto ai movimenti che ha avuto esatto anche quando è stato pubblicato il comunicato ecco dal PIL però l'abbiamo parlato tante volte quindi tu cosa ti aspetti domani Gian e di conseguenza insomma come cambierà eventualmente la posizione di Powell se mai dovesse cambiare ma io molto non credo che cambia questo signore ha già detto ho messo le zampe in avanti dicendo che veramente non si può fidare di questo dato perché comunque è una decisione con un mercato lavoro che è talmente forte con il consumo sì che scende però che non è crollato questo è molto importante abbiamo visto i fondamenti di dati Walmart la gente sta riallocando la spesa ma anche qua si è uno sciopolo dei consumatori qui non siamo nel dopoguerra in questo posto e poi vedremo anche guardate che qui l'investimento in via capitale si si va ammorbidendo però abbiamo visto anche i beni di regole oggi dunque lui dice dal punto di vista dei fattori recessione non c'è dunque anche domani esce un dato si dice meno 0,5 meno 0,6 ci sarà qualche scusante insomma ci sarà qualche scusante io mi aspetto qualcosa di flat francamente io non credo che la posizione americana ha fatto granché penso che giocherà un grosso ruolo il fatto c'è la riduzione dell'inventario del magazzino questo sarà molto importante dunque io faccio un range di 0,4 più a meno 0,3 meno 0,4 io non credo che faccia ok ok poi tanto avremo modo di commentarlo intanto in conclusione saluto anche un po' di amici Mirko da Messina che scrive buonasera complimenti per il servizio che date domanda vista comunque l'incertezza una fortissima volatilità quali settori e o paesi potrebbero reggere con meno scossoni hai un'indicazione da dare a Mirko? ma io dal punto di vista economico questo mi trovo io attualmente qui nella mia casa a Westchester in White Plains ossia nel fatto me l'ho fatto o me l'ho fatto questo è un continente a sé stante questo è un paese adesso non so cosa farà la borsa se non può sapere ma qui chiaramente noi abbiamo il 12% del GDP che è il commercio estero dunque chiaramente il costo dell'estero si ci impatta ma non è una questione vitale in Europa è una questione vitale in Europa c'è il problema dell'energia c'è il problema del gas c'è il ricatto russo chiamano quello che è qui noi l'energia ce l'abbiamo magari la pagheremo di più però è disponibile e chi ha energia secondo me va avanti ecco poi c'è un amico che è molto scettico ma insomma ma io condivido anche lo scetticismo perché scrive intanto dice ogni beer market ogni mercato orso è fatto di rally se certo sì sì assolutamente sì bisogna guardare il trend non è che sia una giornata brillante vuol dire che abbiamo cambiato no 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 io sono d'accordo esatto è questo rischio e poi dice ricordatevi quando finirà tutto questo saremo in basso ma molto in basso ricordatevi non abbiamo bisogno di ricordarcelo noi le condizioni cioè diciamo che si valutano tutte le opzioni effettivamente le preoccupazioni per la china che potrebbe prendere il mercato e quindi l'economia in basso ci sono non ne stiamo parlando anzi abbiamo sentito anche tanti giornalisti nella conferenza stampa puntare no su questo proprio perché bisogna anzi le hanno chiesto proprio a Powell come intende rassicurare chi ascoltava quindi indubbiamente le preoccupazioni ce le hanno tutte è vero bisogna bisognerà anche perché così è rialzo dei tassi in questo momento porta inevitabilmente a un grosso rallentamento vedremo vedremo cosa succederà è vero che non è una una consolazione dire vedremo però insomma Gian che possiamo rispondere a questo amico che scrive ma io credo che questo è molto semplice nei bear market sono sempre erari estremamente forti anche perché ricordiamo c'è una grossa domanda di azioni che non è direzionale ma di persone che sono sostanzialmente la loro allocation dunque il fatto che costoro comprano vuol dire che si scoppino di fiducia ma io devo ribilanciare ritornare al mio ratio naturale ecco questa domanda questa c'è sempre dal punto di vista chiaramente della crescita o del bear market sì secondo me può scendere ancora può sempre fare di tutto però io non so effettivamente io non sono un catastrofista non ho passato la mia vita corre aperta presso il nostro damo questo perché in stradamo sono sempre i problemi e non ci sono mai soluzioni io sono una persona che è solutions driven come si può dire io questo non ne ascolto mai però io penso sì possa scendere ma la cosa più importante secondo me è che non siamo siamo in una situazione binaria rischio sistemico non rischio sistemico qui non c'è rischio sistemico il mondo non scoppia scende c'è un aggiustamento di molte valutazioni probabilmente questo sicuramente non siamo ancora a termine anche sugli assets alternativi tipo il private equity certi investimenti i liquidi qui ancora non si è visto nulla secondo me però chiaramente ossia questa siccome non è un'economia lì sono d'accordo con Powell non è un'economia con questi dati dell'impiego che si trova sull'orlo urbano rallentamento sì in parte di recessione sì statistica ma non siamo solo urbano va bene va bene no dicevo in chiusura proprio Nostradamus nessuno è Nostradamus sui mercati e chi crede di esserlo toppa già in partenza toppa esatto va bene Jean Ergas come sempre grazie per aver commentato e anche per averci dato una mano a leggere le sfumature insomma nelle parole di Jerome Powell perché è quella la cosa importante al di là poi dei concetti ma come vengono dette determinate cose e sei riuscito come sempre a darci assolutamente la fotografia giusta quindi preziosissimo anche per questa riunione a presto avremo modo di commentare poi a posteriori anche gli altri dati che stiamo aspettando buona serata anzi buona giornata a te in America grazie grazie anche per noi e grazie a tutti voi che ci avete seguito io continuo a leggere i vostri messaggi allora si parla solo dei tassi devono essere aumentati solo perché liquidità va bene allora no un amico ci scrive che non bisogna solo parlare dell'aumento dei tassi non abbiamo parlato solo dell'aumento dei tassi perdonami se dissento da quello che scrivi abbiamo parlato di tante cose e ogni giorno quotidianamente non parliamo solo del rialzo dei tassi analizziamo le problematiche relative al rialzo dei tassi e a quello che è accaduto in tutti questi anni che sono stati caratterizzati da tassi parello zero e i rischi che ci sono adesso da un'inversione di tendenza ma non parliamo solo di questo ci mancherebbe sono d'accordo con te non bisogna parlare solo di quello ma non lo facciamo grazie per tutti i vostri commenti che sono utilissimi noi ci rivediamo con le dirette e le trasmissioni di Le Fonti TV domani mattina a partire dalle 9 inizia la programmazione davvero grazie vi auguro una buona serata e a domani